Quastal Il Quastal 10 con due motori da 300 cavalli è in grado di raggiungere i 50 nodi Ma per saperne di più andiamo ad ascoltare il nostro Francesco Piras che in questo momento è con Raffaele Lettieri Ed eccoci a bordo di quello che è la novità importante portata dal cantiere Quastal con il Quastal 10 Con noi c'è proprio Lele Lettieri che è il papà di questa bellissima imbarcazione Un gommone importante come dicevamo un gommone che offre tanto spazio vivibile in coperta sia a prua che a poppa Perché la vostra filosofia è andare con prestazioni importanti e poi quando si spengono i motori Vivere una giornata di mare con gli spazi che questa è davvero una bell'isola Un'isola felice della famiglia o degli amici o di chi vogliamo portare in giro per mare Sono tanti spazi, spazi importanti poi dicevamo appunto una carina performante che supera i 50 nodi Quindi ci si può anche divertire quando si dà potenza ai motori Certo, allora il gommone già di per sé è il mezzo più versatile, più comodo E' lo scooter del mare, quindi è un day cruiser per andare a fare il bagno, per divertirsi Molto stabile sia in navigazione grazie ai tubolari in acqua che ovviamente all'ancora Che è uno dei problemi maggiori, è quello della barca con un roglio che dà fastidio a molte persone Invece il gommone, il gommone inteso appunto con i tubolari stabilizzanti che toccano l'acqua E' un mezzo per soffrire poco il mare e quindi godersi la giornata Velocità, tutti i gommoni sono veloci, i gommoni stabili con una buona carena sono veloci e sicuri Diciamo che questa ha anche una differenza Questo gommone è stato progettato insieme all'ingegner guida dello studio guida design Che è riuscito in 10 metri, quindi in una tante, a creare degli spazi molto indipendenti tra poppa e prua Quindi due prendisoli, due divani contrapposti, di cui quello di prua e quello di poppa Molto alti per non soffrire il caldo dell'estate, questa è un'altra caratteristica Se fosse chiuso dentro non ci raggiungerebbe Si soffocherebbe come succedeva in alcuni gommoni di qualche anno fa Dove il prendisole di prua era ingavonato tra i tubolari Gommone che è totalmente personalizzabile, diciamo questo è l'aspetto più divertente Quindi nello scegliere un gommone si parte dal colore dei tubolari Eventualmente dal colore della vetroresina I tessuti, ci sono tanti tipi di tessuti Quelli classici in Sky fino all'Alcantara Si può scegliere anche il tipo di cuscitura Insomma è veramente divertente Fino al colore del pannello strumenti, la disposizione degli strumenti Per chi non si accontentasse poi a vicino c'è anche l'11 metri Un po' più impegnativo Sì, fino al nuovo 14 metri Hai visto un rendering? Perfetto, che ovviamente lì si inizia ad arrivare a un battello forse più impegnativo Perché ha anche una cabina, ha degli spazi ovviamente diversi Però rimane un gommone Cioè tubolare in acqua, leggerezza, la possibilità di navigare senza consumare quantità di carburante esagerate La gestione, cioè la differenza vera tra avere un gommone e avere una barca E la serenità con cui si gestisce un gommone Quindi noi invitiamo tutti coloro che si stanno avvicinando Magari anche per la prima volta al mare Avvicinatevi al gommone, avvicinatevi a Coastal che ha oltretutto un'esperienza importante su quello che è la ricercatezza delle carene Proprio per darvi la possibilità di divertirsi, correre perché piace a tutti Piace anche in macchina Però poi ricordate come le automobili ci sono quelle che stanno in strada Ci sono quelle che magari dopo una certa velocità possono diventare pericolose per chi le sta portando Invitiamo tutti, avvicinatevi a Coastal Questo 10 metri ha avuto tanto successo qua a Nautic Sud Continuerà a dare soddisfazione perché il Nautic Sud non è ancora terminato Il primo weekend c'è stata veramente un'invasione barbarica di 40.000 persone Ci aspettiamo adesso la replica del secondo weekend Speriamo perché il primo è stato un successo inaspettato Dopo anni che non si faceva Sono stati veramente bravi a organizzare di nuovo questo salone Che probabilmente mancava, evidentemente la gente lo voleva Quindi è tornata molto numerosa In modo assolutamente superiore all'aspettativa E noi siamo con voi, quindi invitiamo tutti Avvicinatevi a Coastal, andate a vedere tutto quello che loro propongono sul mercato C'è questo bellissimo 10 metri, c'è l'unico, c'è il 14 che presto verrà presentato anche in acqua C'è anche un 8 metri Nel senso ovviamente l'8 metri è probabilmente una dimensione più umana Un monomotore dal peso contenuto Quindi anche altri costi sia di acquisto che di gestione